I medici padovani contro la delibera della regione che impone dal primo gennaio una sorta di prontuario per stabilire i tempi massimi per le visite. È un strumento che la giunta regionale ha imposto per delibera che praticamente in qualche modo toglie al medico la responsabilità di stabilire le priorità. Facendo una specie di algoritmo tra sintomi e priorità da mettere sulla ricetta. Toglie al medico il diritto di stabilire qual tempo per quel paziente visitato in quel momento, in quel contesto, qual è il tempo in cui deve essere fatta una prestazione specialistica, una prestazione diagnostica. I medici di medicina generale non vogliono sottrarsi al controllo, ma non è questo lo strumento adeguato, dicono. È chiaro che ci possono essere, anzi ci devono essere i controlli sulla proprietà delle richieste da parte dei medici, ma che devono essere fatti dopo aver espletato gli esami, quando è evidente che quel paziente magari aveva bisogno di questi tempi. Non può essere fatto prima in modo così automatico, altrimenti sostituiamo i medici con un computer, con un algoritmo, uno schiaccia un tasto e tira fuori la ricetta. L'opposizione a questo provvedimento è dura. Per quanto riguarda la FIMG ha già mandato un invito ai colleghi a non applicare questa cosa, è una diffida alle software house che creano i nostri gestionali, e di inserire questa cosa in modo sistematico. Per cui l'invito è non aderire a questa cosa. Ma dato che questo riguarda tutti i medici prescrittori, quindi riguarda anche i pediatri di libera scelta, gli specialisti che effettuano visite intra-menia, cioè strutturali ospedaliere, della cosa se ne occuperà anche l'ordine nel prossimo Consiglio. Al momento non c'è l'obbligo di utilizzare questo software giusto? Ma anche se ci fosse non lo rispetteremo.